Salve a tutti, oggi vedremo come accedere alla propria rubrica dei numeri di telefono tramite computer se avete un android, avete fatto la sincronizzazione con l'account gmail, avete salvato i vostri numeri di telefono su gmail e ora vedremo come vederli, quindi un brevissimo video, come vederli da computer quindi la cosa è semplicissima, basterà andare qui, siamo all'interno del nostro account gmail, abbiamo fatto l'accesso basterà andare qui su gmail contatti, ora io li ho scurati, chiaramente per motivi di privacy però qui avrete tutti i vostri contatti e mail, qui tutti i vostri numeri di telefono quindi questo è stato un breve video, spero vi sia piaciuto e alla prossima